Il Tuscany Walking Festival non è stato solo un modo per far conoscere le bellezze, i sapori delle isole dell'arcipelago e della costa toscana, ma anche una dimostrazione di come si può lavorare in simposio e integrati per la stessa direzione. Il Festival del Camminare ha visto uniti il Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, l'APT, il Parco della Migliarina, delle Alpi Apuane, della Maremma, i parchi provinciali e soprattutto la regione toscana. Questa iniziativa del Walking Festival rientra perfettamente all'interno di questa filosofia della regione toscana, noi l'abbiamo sposata con grande entusiasmo ed è un tipo di iniziativa che non solamente ha già dato dei risultati, ma ha dato anche dei risultati più sotterrani, cioè ha permesso agli operatori pubblici, agli operatori privati di lavorare su un progetto con una forte integrazione tra di loro, tra l'APT dell'Arcipelago, tra il parco, tra gli operatori turistico-alberghieri. Insomma, diciamo che la nostra filosofia, la nostra strategia come regione ha bisogno di tanti sistemi locali, di forme di integrazione che ci permettano di dare delle risposte organiche alle esigenze di un nuovo tipo di turista. A un mese dall'inizio, precisamente il 3 aprile, si conclude questa prima parte a Capraia con due testimonial d'eccezione, il vincitore livornese di X Factor, Matteo, e il presidente della regione toscana, Claudio Martini. Questa prima edizione mi sembra sia riuscita molto bene perché, se non altro, ha attirato l'attenzione di tanti turisti, ma anche di tanti cittadini, famiglie, sull'Arcipelago, sull'Elba, su Capraia, su Giglio, su tutte le isole del nostro territorio. Ed è stata anche l'occasione per mettere in mostra tutti i prodotti e tutte le opportunità di queste isole, da quelle ambientali, con le passeggiate, le camminate, i giri in mare, a quelle alimentari. La presentazione dei prodotti agricoli dell'Arcipelago è una novità assoluta perché sembra che qui qualcuno magari si era dimenticato che c'è un'agricoltura che ha i suoi valori e che può rappresentare un'opportunità in più.